Ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, siamo tornati sulla serie di Fortnite Ragazzi oggi come già avrete visto e come già saprete dal video Ho trovato questo brawler Mossa 3 partite con Mortis E uno era uno dei miei brawler preferiti Dico era perché Ora è... C'è Frank buono, ah si ragazzi Frank è molto buono, però ora è Oleon O Corvo E vabbè ragazzi Allora ragazzi andiamo a fare Delle partite in singolo con lui Perchè dovranno andarlo nella volta In due I bring you the ship tap top E' Grazie a tutti. 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 No! 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 You're the good! E' molto buono E' molto buono Perché c'è la ch 죽enza Inizia Bravare E' più Un'altro Sì! mamma mia che sfidata però siamo saliti molto pure di pop ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e ci vediamo un prossimo video ciao ciao